C'è un accesso, lo vediamo con indagini e con processi, c'è un accesso alla criminalità piccola e grande da parte di giovanissimi, l'età si abbassa sempre di più. Naturalmente il discorso è molto ampio e complesso perché cambia la società, cambiano i punti di riferimento. Bisogna naturalmente dare risposte, non solo in chiave di repressione, ma dare risposte anche sociali da parte tutta della comunità, la famiglia, la scuola, l'associazionismo, tutto quello che può essere utile ai ragazzi perché poi saranno i cittadini di domani. Spesso si parla di gioventù violenta, non si parla soltanto di criminalità organizzata ma anche di bullismo. Qui ad Avellino ad esempio c'è stato un fatto di cronaca, un ragazzo che ha schiaffeggiato un suo docente. Perché i ragazzi stanno diventando così aggressivi? Le chiedo se è vero che stanno diventando così aggressivi. Beh certo noi vediamo che sta cambiando, come dicevo prima, si perdono determinati punti di riferimento, non si ha più diciamo, c'è una confusione un po' di ruoli, non si comprendono quali sono i diritti e quali sono i doveri che noi tutti abbiamo, per questo bisogna insegnare e ricordare ai ragazzi quali sono le regole del vivere civile.